Chiudiamo con i precedenti, sono 34 disputati a Lecce, 20 KO, 6 pareggi e 8 vittorie del Pescara, 3 delle ultime 5 partite, partiamo dall'84-85, il gol di Miceli, campionato di Serie B, il tecnico era Enrico Catuzzi, il tecnico del Pescara, questo è il raddoppio, una progressione pazzesca di Raise, non lo tiene nessuno, il pallone in mezzo, la volée vincente del 2-0, di Riccardo Paciocco, che praticamente è un abruzzese d'odozione, lui è venezuelano di origine, però sempre stato in Abruzzo, Riccardo Paciocco, il 2-0 era il 14 aprile del 1985, qui siamo nel campionato di Serie A, 1988-89, il gol partita firmato da Vinze, dopo una serie di carambole in area di rigore pescarese, campionato di Serie A, Lecce batte Pescara 1-0, l'ungherese vinse che segnò il suo primo gol in Italia, questo è invece il precedente dell'8 gennaio 1992, 1-3, vittoria esterna della squadra di Giovanni Galeone, il gol di Bivi dopo l'ottimo velo davvero intelligente di Ceredi, l'azione era iniziata con un lancio panoramico di Allegri, il raddoppio di Massara e il terzo gol, tra poco lo vedremo, sempre di Bivi, Pagano dentro, si getta nello spazio Ceredi che era un centrocampista molto intelligente, palla in mezzo per Bivi che di piatto non ha difficoltà alcuna a segnare, il terzo gol, poi l'1-3, il gol della Bagliera firmato dall'ex Paolo Baldieri, aveva giocato l'anno precedente proprio nel Pescara, gestione prima Mazzone e poi Giovanni Galeone. Qui siamo al 4 giugno 1995, penultima giornata del campionato di Serie B, la Pescara di Franco Oddo vince 5-4 allo stadio di Via del Mare, messe di gol, in vantaggio il Pescara con Federico Giampaolo, il Lecce pareggia i conti sugli sviluppi di questo calcio di punizione, il colpo di testa di Ceramicola, la respinta corta di Morgan De Sanctis, il ganese Aiu, acciuffa il pareggio, si scatena però. Montrone attaccante che era stato ingaggiato dal Padova, tripletta d'autore, questo è il primo gol, Giampaolo dentro per Montrone, il gol del 2-1, l'appoggio di Gelsi per Montrone che si allarga, entra in area e il destro, palla deviata soltanto dall'ex Giuseppe Gatta. Terzo gol, lungo lancio di Nobile, pasticcio dei difensori del Lecce, ne approfitta Montrone l'1-4 per la squadra di Franco Oddo, ma il Lecce sembra vivo, il Lecce che retrocederà in quella stagione, era praticamente, era già retrocesso, il gol di Aiu, doppietta personale per il ganese, poi il 3-4 firmato da Russo, ma le emozioni non terminano qui perché guardate che regalo, Giuseppe Gatta a Massimo Margiotta che firma così il 5-3, il terzo sigillo in quel campionato per l'attaccante del Pescara Massimo Margiotta, il 4-5 finale sul calcio di rigore, il falo di mano di Gil Voria sul discritto russo che riesce ad infilare il portiere Morgan De Sanktis. 4-5, arriviamo con le immagini al 6 giugno 1999, il grandissimo destro di Salvatore Sullo al sesto minuto di gioco nel corso di quella partita, era la penultima giornata, allenatore Gigi De Cagno, rivediamo la perla, davvero un super gol di Salvatore Sullo, Campolonghi nella ripresa colpisce, timbra il palo, Campolonghi era entrato in corso d'opera, ma anche il Pescara avrà due opportunità per raddoppiare, guardate Gelsi di prima attenzione per l'inserimento di Baldi, il destro la respinta del portiere Lorieri e poi ancora nello spazio Sullo potrebbe bissare il gol in apertura, altro grande intervento di Fabrizio Lorieri. Nel finale si erge a protagonista Paolo Bordoni, strepitoso sulla grandestro di un giovane Blasi e poi sull'esperto Giuseppe Giannini, il principe ex giocatore della Roma sul calcio di punizione, altro grande intervento, altra superparata di Paolo Bordoni. Qui siamo invece al 1996-97, Pescara-Lecce 3-0, il primo gol di Ottavio Palladini era il 25 maggio 1997, il super gol di Michele Gelsi, grandestro, poderoso, nulla da fare per Fabrizio Lorieri, esulta Gelsi, 49 gol in maglia biancazzurra in nove stagioni. Rivediamo, mamma mia, un tiro pazzesco aveva Michele Gelsi e poi il terzo gol, rocambolesca l'autorete del centrale di difesa di quel Lecce, allenato da Ventura, Servidei e infatti Ventura sconsolato, poi il Lecce sarà promosso in Serie A, l'arbitro di quella partita, l'avete visto inquadrato, era Collina di Viareggio. Grazie.